Serato Lite o Serato DJ Pro? Quali sono le differenze? Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude, molto spesso si sente parlare di ho serato sul controller, sì ma quale serato? Hai Serato DJ Lite o Serato DJ Pro? E allora quali sono le principali differenze? Qual è uno meglio dell'altro? Bisogna passare a DJ Pro quando insomma ci sono delle cose da sapere per capire quale software veramente abbiamo sotto mano e soprattutto che cosa ci serve per lavorare Andiamo a vedere Che cos'è Serato DJ Lite e che cos'è DJ Pro? Le principali differenze Serato DJ Lite è una versione ridotta del software Serato DJ Pro che ha meno funzionalità e nel caso di alcuni controller DJ alcune delle funzioni hardware sono bloccate Serato DJ Lite è distribuito in modo gratuito con molti DJ entry level poco sotto forma di download gratuito La funzionalità di Serato DJ Lite è sempre limitata rispetto alla versione Pro che è la versione completa del software In pratica Serato DJ Lite è la versione gratuita di Serato DJ Pro ma è chiaro che ha molte meno cose mentre Serato DJ Pro è disponibile come servizio in abbonamento oppure un acquisto una Tantum lo vediamo qua sul sito ufficiale può avvenire 9,99 euro anzi dollari al mese oppure la versione DJ Pro oppure la versione DJ Suite con tutti i pacchetti di espansione tutto quello che serve per magari i professionisti a 14,99 dollari al mese ma si possono anche comprare una Tantum con 249 dollari o 449 dollari la versione Suite è disponibile anche una prova gratuita di 14 giorni per testare il software prima dell'acquisto e un po' di domande che si fa all'utente normale è quella che ho un hardware che sblocca DJ Pro deve acquistare DJ Pro se utilizza già il DJ Pro il tuo hardware lo sblocca non è necessario acquistare una licenza DJ Pro quindi sei a posto se invece hai una licenza che sblocca DJ Lite dovrai pagare per andare su alla versione Pro voglio suonare col DVS è necessaria una licenza? sì per utilizzare il DVS è necessaria la licenza DJ Pro DVS può essere utilizzato solo con determinati hardware alcuni mixer che controllano e sbloccano il DVS gratuitamente mentre altri richiedono un aggiornamento a pagamento ed eccoli qua tutti i mixer che vanno a sbloccare la funzione DVS tutti gli hardware quindi questo magari ve lo guardate sul sito o ve lo metto in descrizione di cosa ho bisogno per suonare con i CDJ? avrei bisogno di Serato DJ Pro con in modalità HID e qui c'è scritto tutto come farlo funzionare sui CDJ 3000, i CDJ 850, i 900, i 900 Nexus, i 2000 e via più con tutti i Denon e i Rain e ho bisogno di una licenza DJ Pro se voglio fare il DJ solamente con il computer no, puoi tranquillamente usare la versione base col computer per fare pratica mentre Serato DJ Lite è una versione gratuita del software che viene distribuita con molti controller DJ entry level Serato DJ Pro è disponibile come aggiornamento a pagamento da Serato DJ Lite o nel caso di alcuni controller più costosi è disponibile pronto all'uso senza la necessità di andare a eseguire nessun aggiornamento quando il controller non è collegato al tuo computer le interfacce dei due software non sono così diverse i loro set di funzionalità e capacità tuttavia sono parecchio diversi l'aggiornamento a Serato DJ Pro estende notevolmente le funzioni e il set di funzionalità di Serato DJ sbloccherai molte funzionalità più slot hot cue più banchi di campionatore più effetti audio e possibilità di registrare i tuoi mix nel software aggiornando a Serato DJ Pro ma andiamo per ordine con Serato DJ Lite non è possibile utilizzare pacchetti di espansione di Serato DJ Pro Serato DJ Pro consente di utilizzare i pacchetti di espansione Serato Expansion Pack e questi pacchetti di espansione possono essere utilizzati solo con Serato DJ Pro che offre questi sei diversi Espansion Pack a pagamento che aggiungono molte funzionalità aggiuntive al software tra cui Serato Play un'espansione che ti consente di utilizzare tutte le funzioni del Serato DJ Pro senza dover collegare un controller DJ al computer quindi questo può essere molto utile la seconda Serato Pitch and Time DJ una delle più richieste dagli utenti di Serato è il pacchetto di espansione per la manipolazione dei toni della chiave di alta qualità in alta qualità che ti consente di cambiare il pitch e la chiave delle tue tracce in modi creativi senza una perdita di qualità il terzo pacchetto è il Serato FX un pacchetto di espansione che va a sbloccare oltre 60 nuovi effetti audio software tutti personalizzabili in totale oltre 60 effetti il Serato Flip che con questa espansione ti consente di manipolare e modificare le tue tracce con loop e tagli personalizzati e quindi andare a salvare le tue modifiche per un uso successivo il Serato DVS ne abbiamo già parlato prima consente di controllare il software DJ con una configurazione con DVS praticamente il timecode del track e per finire il sesto pacchetto il Serato Video per gli amanti del video mixing consente di utilizzare tutte le funzioni di mixing video come vedete nel video tutorial qua di Serato Ufficiale Serato DJ Pro inoltre offre la possibilità di visualizzazione aggiuntiva perché poi con 4 deck avere le seguenti modalità di visualizzazione visualizzazione della forma d'onda verticale orizzontale della forma d'onda vista estesa vista pila e vista libreria ed in più avrai la possibilità di avere più hot cue disponibili mentre Serato DJ Lite ne ha solo 4 indipendentemente dal controller DJ che utilizzi e quindi limitati a 4 e la capacità del campionatore ha 4 campioni del banco mentre col Serato DJ Pro ne vai a sbloccare 8 hot cue fino a 32 slot di campionamento in totale 8 campioni del banco e poi la mappatura MIDI personalizzata con Serato DJ Lite non è possibile quindi non c'è alcuna capacità di mappatura MIDI del controller personalizzato quando stai usando Serato DJ Lite mentre con la Pro puoi rimappare molti dei tuoi controlli hardware mappare combinazioni di tasti nuove sulla tastiera e scorciatoie MIDI questo può essere molto molto utile inoltre molte controller DJ hanno funzioni limitate se utilizzati con Serato DJ Lite i controller DJ come Pioneer di DJ Rev1 la SB3 la Mixed Track Platinum FX per esempio hanno funzionalità limitate con il software Serato DJ Lite quindi assicurati del controller che hai comprato per vedere le compatibilità e le limitazioni che vanno a bloccare alcune delle funzionalità con Serato DJ Lite ed in più la possibilità di analizzare automaticamente le chiavi delle tracce quindi la key e visualizzarle in notazione chiave classica oppure in notazione Camelot come vedete qua Serato DJ Lite non ha l'analisi chiave integrata questa funzione è diventata un po' una cosa molto importante per i DJ per andare a fare il mixaggio armonico ed in più nessuna opzione per la modalità Serato Smart Sync in Serato DJ Lite che cos'è? lo Smart Sync è una funzionalità di sincronizzazione disponibile in Serato DJ Pro che cerca di abbinare sia il BPM che la fase di riproduzione dei brani ottenendo una sincronizzazione più accurata delle tracce questa modalità non c'è in Serato DJ Lite Serato DJ Pro introduce effetti audio più avanzati quindi migliori controlli effetti ti consente anche di acquistare il pacchetto di espansione per gli effetti audio non puoi registrare i tuoi mix con Serato DJ Lite non è presente in Serato DJ Lite devi aggiornare a Serato DJ Pro oppure affidarti ad Audacity ad altri programmi esterni di audio editing e di registrazione funzionalità loop limitata per quel che riguarda Serato DJ Lite si è limitata al loop di 1-8 battute in qualsiasi modalità di looping la modalità di looping manuale non ci consente di creare loop più brevi di una battuta quindi non si va a un ottavo un quarto un mezzo rendendo impossibile alcune combinazioni mentre in Serato DJ Pro hai pieno controllo dei tuoi loop e non hai restrizioni in termini di lunghezza del loop del controllo con Serato DJ Lite non puoi controllare il beat jump cioè i salti di numero personalizzato di battute avanti e indietro nella traccia con la semplice pressione di un tasto molti controlli compatibili con Serato dispongono di questa modalità beat jump tra le altre modalità del performance pad per andare a migliorare la navigazione all'interno della traccia e quindi cosa conviene conviene Serato DJ Pro o Serato DJ Lite è ovvio che se stai iniziando e hai la possibilità di avere Serato DJ Lite ti conviene andare lì smanopolare controllare tutto quello che ti interessa e poi eventualmente vedere quello che ti manca tanto è gratis la DJ Lite e poi fare un aggiornamento sempre quando vuoi però se devi lavorare ad un certo livello e ti servono tutte queste informazioni tutta questa tecnologia che Serato offre e non è poco ti conviene fare un piano di aggiornamento o comprare proprio completamente il software e sarai tranquillo è ovvio quando viene dato gratis con un controller entry level si può cominciare subito a suonare e quello non è poco perché inizia da zero ha bisogno subito di sentire musica di buttare fuori tutto quello che ha dentro poi con il tempo ci si accorge che magari tante cose non ci bastano più ecco quello è il momento di passare alla versione Serato di G Pro chiaramente ha un costo tutto questo però offre anche molto Serato è un buon software è veramente forte sotto tanti aspetti un po' sottovalutato in Italia perché in Italia si sa si tende tutti più sul Virtual Recordbox e alcuni più alto sull'elettronica Tractor abbiamo fatto un video sulla differenza fra i software Serato adesso con la funzione Stems 3.0 con la separazione in tempo reale degli Stems e tutte queste funzioni pagamento non pagamento risulta un software veramente completo e professionale molto più usato in America nei paesi dell'America Latina in tutto il mondo in Italia si ma ancora non è al top non lo vedo come in altri paesi del mondo bene fatemi sapere quale software usate se usate Serato DJ Pro adesso saprete le differenze fra la Lite e la Pro se vi conviene tenere la versione gratuita col vostro controller entry level oppure fare il grande passo di qualità fatemi sapere la vostra opinione sempre importantissima qua sotto nei commenti corsi per DJ corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social per chi sono indicati i corsi per chi inizia da zero per chi è già bravo vuole migliorarsi oppure per tutti coloro che vogliono fare il salto definitivo verso il professionismo consulenze su tutti gli argomenti trattati da SOS4DJ comprese le questioni legali del suonare in regola oltre alle nostre pagine social c'è il TikTok potete seguirci video cortissimi in pieno stile TikTok così come su Telegram la nostra community notifiche silenziose e chat interna puoi farne parte già da subito il nostro canale YouTube vai e scriviti importantissimo per darci una mano a crescere così avrai tutto questo cucuzzaro sempre a gratis con nuovi video nuovi tutorial nuove recensioni nuovi spoiler tutto ciò che ti interessa poi anche abbonarti se vuoi essere dei nostri completamente e darci una mano con una tua corsia preferenziale tantissimi video a disposizione tutti per voi e tutti indicizzati nel mondo DJ e produzione musicale come fare a trovare qualche argomento tutto diviso in playlist molto semplice oppure nel tasto cerca del canale metti l'argomento che ti interessa inoltre c'è il nostro official merchandising con la linea anyway SOS4DJ I play with a like suona solo quello che mi piace vuoi essere informato su tutto ciò che accade sul canale in anteprima lo puoi fare cliccando la campanella e sarai informato tempestivamente appena accade qualcosa sul canale quando c'è qualcosa di nuovo puoi mettere anche un mi piace se vuoi considerare l'ipotesi di aiutarci farci crescere oppure condividere con i tuoi amici se pensi che tutto questo possa essere per loro importante così come lo è per te lo speriamo ci vuoi aiutare lo puoi fare tramite super grazie il tastino qua sotto o sostieni SOS4DJ Serato è un gran programma sia in versione DJ Lite che in DJ Pro ma DJ Pro si sa è un programma professionale lo dice già il nome e adesso vi abbiamo spiegato se ne vale la pena per voi fare il salto e che cosa vi andate a perdere se rimanete sulla versione Lite spero di esservi stato utile fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti è sempre importantissima se siete utenti serato o d'altro se siete passati da un software a un altro avete fatto la trasmigrazione da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una splendida giornata ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è importantissima fondamentale datici una mano a crescere così crescerete anche voi con tutte le cose a disposizione gratis chiaramente ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiripiri è il nostro che la vostra soddisfazione è il nostro